Davanti all'emiciclo oggi una manifestazione dei sindacati della polizia penitenziaria per scongiurare il trasferimento del provveditorato dell'amministrazione penitenziaria a Perugia. Le organizzazioni ritengono che la sede debba essere a Pescara, come era fino al 2015, prima del trasferimento a Roma. Noi ci batteremo fino alla fine. È impensabile, ma anche geograficamente, di dover passare addirittura per l'altro provveditorato prima di fare un trasferimento di un detenuto. Cioè, è assurdo pensare di partire da Sulmona per arrivare in Umbria a Perugia per il trasferimento di un detenuto. E quando l'abbiamo a portata di mano, già nel 2015, quando ci è stato tolto il provveditorato a Pescara, le conseguenze si sono viste e sentite. Il senatore del PD Michele Fine, ad esempio, ha già depositato un'interrogazione al ministro della Giustizia Carlo Nordio sull'argomento. Ma è del tutto incredibile che si possa pensare che il baricentro tra Molise, Abruzzo e Umbria sia Perugia. È evidente che c'è un atteggiamento di inconsistenza politica della nostra regione, che invece è assolutamente baricentrica, dal punto di vista geografico, che può ospitare benissimo a Pescara il provveditorato, ma è solo uno dei tanti momenti in cui si è dimostrata l'inconsistenza politica. Quasi mezzo miliardo di euro persi, PNRR, infrastrutture e poi molti altri provvedimenti che penalizzano proprio l'Abruzzo insieme al Sud. I sindacati chiedono anche alla regione Abruzzo al presidente che intervengano per incidere. La proposta di provveditorato attraverso cui si sceglie Perugia come sede del provveditorato va modificata. La regione Abruzzo ha nel suo territorio otto istituti penitenziari rispetto alle regioni Umbria e Molise, che ne hanno tre, e ha anche mille unità di personale rispetto ai 700 dell'Umbria e ai 250 del Molise. A Pescara ci sarebbe inoltre anche uno stabile di recente ristrutturazione, che sarebbe dono ad ospitare la sede. Nordio avrebbe avuto un'apertura sulla scelta, ma la battaglia sindacale continuerà finché non ci sarà certezza.